Tu pensi che chi dà i soldi ti non poter, eh? Ma non è così. E chi sa che cosa ti non poterlo veramente. Sei sempre a giudicare che giusto che ho sbagliato. Papà se ne aiutano perché non sopportavo più da schifato. E poi c'era un leggerista. Ma è venuta a giudicare queste cose che fanno? No, no, perché? Guarda a correre, a correre sempre più. Come se non c'è il stesso tempo. Ma ero pazzata. Ci sono delle regole per stare qua, non ce ne lo sai. E' arrivato un momento che ti mandavamo pure potente. Vuoi parlare di una grande? I grandi hanno re, i grandi si fanno male. Io ho tutta la responsabilità. Un po' di niente quando ho deciso. Hai capito? Sono un egitto. Alcuni di voi non hanno firmato la notifica dei nascondano. In gennaio però... Ma qualcuno deve pagare per quello che è successo. Senza fa troppi domani. Però hai diventato paura. Ma la Cire non te lo voto a te. Tu non lo sai quello che stanno facendo. I affari sono affari. Tu non capisci perché si stai diventando un passaggio. Questo? Tu mi com'è un anno? Oaai! Che c'è da ma te la bucchì! Sì, sì, sì.